Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo progetto, un Road to Glory, il primo Road to Glory sul mio canale. Partiamo dalla League One con l'obiettivo di prendere una squadra davvero piccola, solo due stelle di valutazione, e cercare di portarla in Premier prima e poi, se riusciamo, anche in Europa. Inizia con questo primo episodio la carriera con il Blackpool FC, è stata una scelta difficile questa squadra, in live abbiamo discusso per ore, c'erano tante squadre in League One papabili, l'Ipswich Town, il Portmout con lo stadio fatto bene, il Sunderland, l'Hall City, ma volevo una squadra che fosse una vera e propria sfida, diciamo una scalata da iniziare dal basso. Il Road to Glory è un format che mancava sul mio canale, che nell'ultimo anno è sbarcato su YouTube Italia, l'hanno portato in tanti, sempre con la League Two, e quindi mi sembrava anche un po' banale rifarla uguale, partire anch'io dalla League Two. Siamo in mare aperto, possiamo addirittura retrocedere, perché siamo in League One, ma ovviamente l'obiettivo è di andare prima in Championship, poi in Premier e fare una carriera che possa nel giro di 2-3 anni portare questa squadra in un buon posizionamento all'interno della Premier League. Ci siamo innamorati l'anno scorso del Newcastle, perché effettivamente il calcio inglese è curato molto meglio su FIFA rispetto a quello italiano e la rimozione della Serie B da FIFA 21 lo testimonia, per cui sono convinto che anche se siamo nella rispettiva Serie C inglese, ci saranno tante squadre interessanti da affrontare, tanti stadi belli da vedere, tante maglie curiose da poter osservare. A partire dalla nostra, i colori del Blackpool sono arancione e bianco, è una storia che parte da lontano, quella di questa società, che comunque presenta nel suo palmarès una FA Cup e l'altra curiosità è che il primo palone d'oro lo diedero a un giocatore del Blackpool. Poi ovviamente la squadra è un po' sparita dai radar, dalle prime posizioni, ha subito anche recentemente dei fallimenti che l'hanno portata a retrocedere continuamente ed arrivare adesso in League One. Il colore della maglietta è stata una scelta del Blackpool per staccare dai colori che fino a quel momento c'erano in tutte le squadre inglesi ed erano principalmente il rosso, il blu, il bianco che sono i classici colori delle squadre di calcio. Ispirandosi alla nazionale olandese divenne il colore ufficiale quello arancione. Io sono metà olandese quindi in questo ci rivedo un po' un piccolo richiamo. Il nome dell'allenatore è Tizian van Bramben proprio perché ho voluto trasformare il mio nome e cognome in una versione olandesizzata, quindi facciamo finta di essere un allenatore olandese che sbarca in Inghilterra per allenare una squadra in League One con gli stessi colori della propria nazionale. La carriera come vedete inizia dal 5 luglio perché vi ho risparmiato tutta la scelta e la personalizzazione dell'allenatore, il dover fare i primi allenamenti, dover creare una rete mercato globale, per cui qualche cosa l'ho già fatta, ho anche fatto già qualche rinnovo, però comunque il budget è un milione e sette, come si può vedere anche quando si sceglie di allenarlo, è un budget molto basso, è un budget da League Two quindi sarà veramente tosta e adesso andiamo a vedere la panoramica degli obiettivi. L'obiettivo è di raggiungere i sedicesimi di FA Cup, di conquistare la promozione diretta e di ingaggiare quattro giocatori per il tuo vivaio nei seguenti ruoli, portiere, difensore, centrocampi isattaccante. Vendi due giocatori e compra le due cruciali per rimpiazzarli, termina la stagione e spende tutto il budget per il mercato. Questo è interessante perché di vendere due giocatori ce la faremo e ho intenzione in questo primo mercato di fare pochi acquisti, probabilmente due, ma quei due dovranno essere abbastanza grossi per poter avere subito dei punti di riferimento in questa squadra. Poi il successo l'abbiamo già visto e il successo continentale non lo vedremo per un bel po'. Andiamo a vedere la staff primavera perché nella staff primavera io ho mandato Holloway per sei mesi in Inghilterra, chiaramente dovremo pescare molto nel campionato inglese perché è difficile fare trattative internazionali quando sei una squadra di serie C, quindi cercheremo di puntare quasi solo su giocatori a parte economici ma comunque che possano giocare in questa lega, quindi anche giovani interessanti di squadre come mi viene in mente il Lione, lo Schalke, ecco li terrei lì almeno per la prima stagione perché sarebbe poco realistico farli fare un salto del genere indietro. Il vivaio presenta già tre giovani e ovviamente avendo preso il gioco col pre-order c'è subito una grande promessa in rosa, mi viene da ridere perché è il nostro Valentini inglese che si chiama Jeffrey. 17 anni, 70 di totale, 74-94 di potenziale, lo so, è alto 1,92 m, questa cosa mi piace parecchio. L'unica cosa bella è che non è velocissimo. Uno dirà ma perché? È molto importante che sia veloce. Lo so ma non volevo che somigliasse del tutto a Valentini e quindi in realtà mi fa piacere che non abbia delle statistiche banali. Ha delle statistiche che quasi lo rendono più trequartista. Siccome è un 70, poi dopo lo capirete, è già arrivato il momento di chiamarlo in prima squadra. Perché dico che Jeffrey serve già in prima squadra? Perché 70 è una valutazione altissima per una squadra di League One. La formazione è un 4-3-3, io l'ho reso un 4-3-3 offensivo per sfruttare i trequartisti. Abbiamo due attaccanti che sono Madin e Yates. Poi abbiamo Lubala che è un esterno molto veloce, dinamico, interessante, con un buon dribbling. Questo lo vedo già un giocatore importante. Dall'altra parte abbiamo un bellissimo esagono per Hamilton che è solo un 62 ma ha una velocità enorme che secondo me lo fa percepire più forte poi nel gioco, ma va ovviamente testato. Sostituto di Hamilton è questo Sarkic che però ha un esagono totalmente minore e questo fa già capire quanto potrebbe essere buggato Hamilton. Mentre Lubala non ha sostituti ma perché gli altri sono C.O.C. Abbiamo Kai Kai che è fatto bene di faccia, tra l'altro. Abbiamo Woodburn che è un giovane molto interessante ma è prestato. E abbiamo Anderson, bell'esagono. Lui potrebbe fare anche Lala, volendo. Davanti alla difesa due CDC che sono Williams e Dogal. Antwi che però è solo un 52. Abbiamo Virtue 62, Ward 64, Robson 60. Un po' di esuberi magari uno di questi tre se non tutte e due, Virtue e Robson, li potremmo anche vendere per dare un po' di spazio anche al mercato. In difesa abbiamo delle ottime sorprese. Mitchell è un terzino che promette veramente bene. 67, un buon potenziale di crescita e un esagono ottimo per un terzino in questa divisione. Ha pure classe come caratteristica, per cui occhi su Mitchell. Dall'altra parte invece meno fortunati abbiamo Tarton che però non mi sembra un terzino di quelli che può fare faville in campo. In difesa siamo messi bene. Abbiamo un 63 che però ispira per l'esagono, un 65 che è Tornilay. Poi abbiamo Garbut che era nel Everton e adesso lo troviamo qui. Sarebbe interessante fargli un piano di crescita per trasformarlo in realtà o in CDC o in difensore centrale. Questo va deciso insieme. Siccome il titolare è Mitchell, l'esperienza di Garbut può diventare importante in difesa o a centrocampo. Si può lavorare con questa squadra, soprattutto considerando che adesso arriva anche il giovane della primavera, non siamo messi così male. Io comprerei una punta, un terzino e una punta. Ecco, un terzino destro e una punta potrebbero essere interessanti. Per cui prima mossa da fare secondo me è andare sul vivaio e chiamare Jeffrey. Comunque promuovendolo abbiamo un 17enne con un potenziale pazzesco che ci servirà anche come per Valentini ci servirà da vendere a una certa. Per cui promuovi in prima squadra. Andiamo a vedere l'esagono che mi interessa molto. Da lì si capirà dove possiamo collocarlo. Allora, wow! Esagono mostruoso di Jeffrey che ha tantissimo in passaggi, anche un buon tiro. Direi che, visto l'esagono, non lo metterei esterno. Non ha neanche abbastanza difesa, è proprio da mettere CoC. Allora, con le sue statistiche lui diventa un esterno destro in due settimane, un CC subito, un CoC un po' più lentamente in quattro e una punta in 88 settimane, quindi non è possibile. Vi faccio vedere la mia ab mercato. Ho già inserito qualche nome della fuente del Barcellona, Eris Barker dei Rangers fatto bene di faccia. Il nipote di Seedorf del Motherwell potrebbe essere la carriera giusta per comprarlo. Zaccaria Baccali, una leggenda del nostro canale, ha secondo me adesso il prezzo giusto per poter venire eventualmente in una nostra squadra. Azoro, che però adesso è prestato, è al Genoa. Abbiamo Lane, che è un fulmine. Sims, però qua c'è un problema degli ingaggi, perché essendo all'Everton prende un ingaggio altissimo. Poi abbiamo Daryl Dyke del Orlando City, che può essere molto utile. In realtà adesso avendo preso Jeffrey, che è 1,92, possiamo far fare la torre a Jeffrey, un po' come faceva... ecco Witz... Kail, Kail, Kail aveva un po' questo ruolo. Witzel anche, anche Toivonen, bravi, avete già comunque dato qualche esempio. Cioè il giocatore lasci la punta rapida come unica punta e ti metti due esterni veloci, avendo già tre giocatori veloci, ti metti in mezzo con un giocatore alto a recuperare i palloni alti a fare da torre. Nel mio gioco io voglio sempre centralmente uno che fa da torre e l'altro che scappa via e si inserisce alle spalle, ok? Come Okazaki con Vardy, questo è un bellissimo esempio. Un po' meno professionalità la prossima volta, scusami, ma è così che io faccio le carriere, mi dispiace. Poi abbiamo Sergio Santos, questo l'ho preso perché ragazzi, questo qua ragazzi sembra... possiamo dire Tory Lanez, possiamo dire... comunque è fatto da Dio. Lui è molto interessante perché ho visto la clausola, però non è disposta a trattare, quindi bisogna andare sulla clausola e qua bisogna vedere se abbiamo i soldi per farlo. Si possono comprare un pochino più avanti, però li volevo già osservare ora. Uno di questi è per esempio Broadway che mi piace moltissimo, però anche lui non vuole trattare, bisogna pagare la clausola. Abbiamo Ed Varsen, questo ve lo suggerisco, ha un esagono spaventoso, Ed Varsen. Abbiamo Ricci perché a me non italiano lo volevo, Vranx che lo punto dall'inizio anno. Johan Hove, questo è un bel colpo alla tiz, l'ho studiato, ha un esagono molto interessante. I norvegesi quest'anno non esagono molto interessante. Bruno Paz, questo simpatico, con i capelli così mi sembrava utile per una carriera. Matt Smith, l'avevo già visto quando ero indeciso se usare o no il Doncaster Rover, molto forte. Ilic, perché nel Verona non l'abbiamo utilizzato, forse ora è utile poterlo puntare. Se no, Mataso. Mokeke svincolato potrebbe essere il nostro eroe in una carriera del genere. Offobor, lui pazzesco, eh? Lui è molto molto interessante, faccia fatta bene, robusto, potrebbe essere un malong economico. Reese Oxford, questo anni fa aveva un potenziale stratosferico, è finito in disgrazia. Adesso all'Ausburg potrebbe essere carino, visto che è inglese, faccia fatta bene, riportarlo. Se no, fratello minore di Rechic, abbiamo anche Thiau, 5 stelle, piede debole, 1,91, finlandese, questo mi ispira molto. Aiw, invece, austriaco, potrebbe essere il nuovo Alaba. Ducure, faccia fatta bene, è uno dei più scarsi con la faccia fatta bene che ci sia in questo gioco. Qualcosa vorrà pur dire. Se no, abbiamo Emmanuel, miglior terzino destro della Ligue 1. O Bolton, interessante, faccia fatta bene, veloce, buon potenziale. Poi, la Thibaudière, l'avevo già osservato per la MLS, mi piaci, tu mi piaci, hai la faccia cazzuta, puoi entrare nelle mie grazie. Però il primo, ragazzi, è Leandro Bacuna. Non potevo iniziare un'avventura inglese senza avere almeno un Bacuna con me, è fatto divinamente perché è bellissimo. Cioè, la family Bacuna, abbiamo avuto Giuninio nella spalla, abbiamo avuto Paul in NBA, ci manca Leandro. Allora, io farei intanto una prova che se ci mettiamo bene possiamo anche iniziare a simulare e poi abbiamo subito ad agosto l'inizio del campionato, avremo tantissime partite e voglio all'inizio capire, paradossalmente voglio giocare con intensità la Coppa Internazionale Estiva per capire che tattiche ci servono e vincerla perché ci servono soldi. Madden, attenzione! Jeffrey, il tiro! Goal! Due pari! Subito in rete il nuovo debuttante Jeffrey dalla primavera che potrebbe essere un giocatore prezioso questa volta rispetto a Valentini. Ecco, questo è come voglio giocare io. Torre e poi dopo scarico sugli esterni. 3 a 2. Jeffrey, stiamo giocando a ping pong oggi, ma è doppietta per questo giovane giocatore della primavera. È largo anche, è bello grosso per aver 17 anni. Contropiede? Contropiede di Lubala. Paolo Lubala. Vai Lubala. Tiro. Goal! Grande Lubala, 4 a 3. E allora? Lubala. Ah, è Madden. Ok. Jeffrey. Goal. 5 a 3. Tripletta di Jeffrey. Eh, devo dire che è molto forte rispetto alla media, è un 70. Allora, il Goetzepe. Goetzepe. Oh my god, Goetzepe. Comunque mi hanno offerto una buona cifra. Cercherei di arrivare fino a 860.000. Accettata. Eh, anche qualche migliaio in più. Comunque lui prende anche uno stipendio abbastanza elevato. Vediamo se va via Tarton. Qua arriva un'offerta per Virtue, che ha 23 anni, quindi vale addirittura un milione. È perfetto. 62. Eh, in questo momento non ce ne facciamo nulla, perché non sarebbe titolare e non ha un potenziale di crescita stratosferico. Io andrei a trattare. Proviamo a chiedere addirittura un milione e centocinqua, un milione e due. Se accettano anche lui... Accetto. Ottimo. Ottimo, ragazzi. Allora, stanno arrivando dei soldi. Questa è una buona notizia. Possiamo fare del mercato. Nel frattempo arriva il primo acquisto dell'Al City, ma attenzione perché abbiamo il coltello fra i denti. Resoconto finale sul Tatone. 67. Potrebbe giocare addirittura a titolare. Potrebbe giocare anche titolare a destra. Vediamo quante stelle ha di piede debole. Eh, sottato, io ho una fiducia in te che è estrema. 4.500. Dai, sei svincolato. Hai 30 anni, ti prego. Hai 30 anni e mi conosci. Dai, guardami. Accettato! Il Tatone abbassa lo stipendio. Viene da noi. Gratis da svincolato. Tra l'altro potrebbe giocare anche titolare in questa squadra. È un 67. Ma le statistiche ci dicono che secondo me è un terzino. Bene, bene. Allora, giochiamoci anche la prossima nel frattempo. Vedete che... Perché non mi va? Poi gli osservatori non lo trovano. Devo ricordarmi di mandarne altri. Iniziamo a fare le cessioni e le partite. Fondamentale. Mokeke. Vediamo se fa assist. Gol. Le portierei sono scarsissimi. Sembra che siamo tornati al pre-aggiornamento. Veramente scarsi. Yates, vediamo se è veloce. È rapido però. Lo vedete? È interessante. È molto forte. Bravo. Da vendere Medin teniamo Yates. Mi sembra più forte. Hamilton. Vai, Emmi. Gol e rovesciata di Jeffrey. E vabbè. Bene! Si parte forte con Jeffrey. Gol inutile in rovesciata. Non serve a niente. Vinta nel finale grazie a una rovesciata di Jeffrey. Che è stata però, posso dire, possiamo anche vederlo come un nuovo Valentini, ma in realtà è stata una manna dal cielo per una squadra come la nostra, eh. Go Tangerines. Allora, Tarton venduto. Questo non ci aiuta per il momento. Arrivano anche dei soldi della Coppa Internazionale Estiva. Allora, andiamo avanti. Abbiamo le semifinali con Nancy. Nel frattempo Lubala. Siamo soddisfatti della sua crescita. Ottimo. Allora, è una squadra difficile perché Yates e Fo sta giocando bene, ma non so se basta. Abbiamo anche i sostituti. Davanti siamo messi bene. I CDC ne abbiamo comunque un po'. Abbiamo Garbut che diventerà CDC. Mokeke eventualmente se prendiamo un terzino destro che potrebbe essere Bolton e ci teniamo Bakuna per la Championship, che è più realistico. Ha fatto un'altra parata al nostro portiere. Dai, Maxwell, bravo. Io non lo vorrei cambiare. Non voglio investire i miei pochi soldi di budget in un portiere, porca miseria. Ora ha segnato. Va bene, scendi in campo. Tiro. Goal! Jeffrey! Scatenato. Tira un altro calcio al pallone. Bravo! Ora però basta. È anche lo zitti zitti. È impazzito. Peccato ragazzi. Ho fatto la simulazione. 2-0. Ho provato a recuperarla un minimo. Finita 2-1. Comunque non tanti soldi buttati, nel senso che giocando la semifinale qualcosa abbiamo guadagnato, ma non prendiamo i soldi della finale alla fine. Allora, Asband è diventato difensore centrale, il che a me non cambia molto. L'ho fatto principalmente perché secondo me ha più appeal quando lo si vende. Allora ragazzi, io farei questo ragionamento qua. Per questa prima stagione compriamo giocatori che ha senso avere in League One. Ok? Al massimo possiamo sgravare sull'attaccante perché l'attaccante deve andare anche un po' a sentimento. Qua lo sostituisco. Ward lo sostituisce perché ha poca resistenza e così anche Mitchell. Si alternano loro sulla sinistra. Vado a prendere uno a destra e mi piaceva la suggestione Bolton. Lo trovavo molto realistico. Faccia fatta bene è del Dundee United che è una squadra scozzese. Secondo me è molto realistico da prendere. Offerta per il cartellino? Un milione. Vediamo se mi... cosa mi rispondo. No, vediamo se posso... se accettano qualche scambio. Sì, sono interessati. Wow. 170.000 più husband. Clauso a rivendita 4%. Ho paura che se rimuovo la clausola a rivendita poi mi dicono che non va più bene. Accetto, dai. E va bene. Complessivamente va bene. Oh, dai, dai, dai. È abituato a giocare in una squadra con un logo arancione tra l'altro. Questa è una roba che noto solo io. Benvenuto! È 64 e ha un esagono che è perfetto. È in miniatura l'esagono di un terzino fatto bene. Quindi ottimo acquisto. Oltre a quello di Mitchell abbiamo sistemato il discorso terzini già da subito. Dopo una settimana abbiamo già due terzini perfetti. Inizia... inizia a formarsi un po' uno scheletro di squadra. Direi difensore e attaccante sarebbe carino da prendere. Comunque, Kai Kai, cambio ruolo, sale di due. Ottimo! Ti alleno come ala invertita così migliora il piede debole, migliora anche un po' una finalizzazione. Abbiamo veramente fatto un gran lavoro lì davanti, trasformando Lubala, Kai Kai e Jefferson in quasi 3,70. Vendiamo Madin e compriamo una punta. Questa è la prima cosa. Esterni e COC siamo messi molto bene. Teniamo due CDC, eventualmente li cambiamo in centrocampisti centrali normali quando andremo a giocare un calcio un pochino più carino. Quindi teniamo l'esperienza di Garbutt e Dougal per il momento un po' più di copertura e diamo spinta ai terzini. Ok, diamo spinta ai terzini. Io appunto comprerei una punta e un DC.